Qual è la caratteristica specifica della sua scuola di specializzazione? La scuola di specializzazione di Genova, che è stata la quarta ad essere istituita in Italia nel 1994, quindi ha ormai più di 25 anni, è sempre stata caratterizzata da un intenso rapporto con il mondo tecnico, perché le scuole devono creare, devono dare vita a professionisti specializzati nel campo del restauro. E non è una scuola, anche se così si chiama, ma è più un atelier in qualche modo, in cui i ragazzi sono accompagnati in un percorso biennale, al primo anno dedicato prevalentemente agli studi, alle ricerche e ai rilievi, il secondo anno al progetto e poi scelgono loro autonomamente una tesi in cui in un periodo limitato, che sono circa sei mesi, devono ripercorrere l'intero tracciato dimostrando di essere autonomi nelle loro competenze. Ci conferma che un architetto specializzato ha maturato più competenze sulle strutture in muratura di un laureato in ingegneria? Assolutamente sì, non solo per la scuola di specializzazione, ma appunto per il suo percorso precedente dei cinque anni, oggi 3P2, e perché da sempre il rapporto con il costruito storico è centrale per un architetto, molto meno per l'ingegnere. E purtroppo c'è stato un periodo in cui il cosiddetto consolidamento ha provocato molti danni proprio per questa. Adesso una parte anche degli ingegneri ci dà una mano, perché nella scuola insegnano anche degli ingegneri, attenti però alle murature antiche, alle strutture antiche. Qual è il rapporto con il territorio, quindi con la realtà di Genova e della sua scuola? Beh, tanto diciamo che il rapporto non è solo con il territorio di Genova, perché da sempre abbiamo avuto studenti che arrivano anche da altre parti del mondo, e non solo dell'Italia, per cui abbiamo fatto tesi e lavori in tutta Italia e anche all'estero. In particolare nel territorio di Genova e della Liguria abbiamo rapporti strettissimi con gli organi periferici del Ministero, della Cultura, quindi segretariato regionale e sovrintendenze, ma anche con i comuni, con le amministrazioni comunali, con le province, una volta adesso non esistono più, con enti pubblici di varia natura, con le diocesi, con le parrocchie e anche con privati cittadini. Un esempio, abbiamo lavorato a Genova per il Traste Doria Panfili, perché Villa Doria Panfili di Genova è uno dei monumenti più importanti che abbiamo e abbiamo lavorato anche per loro, quindi per un privato.